Benvenuto in questo Virtual Tour, io sono Angelo Camidelli Artist, Mister Affitti Brianza e ti porto in visita in un appartamento bilocale non arredato ad Esio in zona centrale. Ampio ingresso su un piccolo atrio che conduce alla zona giorno e alla zona notte. Cucina abitabile, molto spaziosa, con tre finestre e una porta finestra che conduce al balcone. Soggiorno ampio e luminoso, con balcone comunicante con la cucina. Passiamo quindi alla zona notte con un corridoio che conduce alla camera da letto, molto grande e anch'essa luminosa e bagno con scarico per la lavatrice all'esterno, ampia vasca e sanitari. Per tutti i dettagli su questi immobili visita il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cottura dell'affitto visita il blog www.misterattitbrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza.